Giovedì 17 ottobre 2013, a Genova, nella Sala delle Grida del Palazzo della Nuova Borsa in via 20 settembre 44, si è svolto il workshop di infoprogetto dal titolo Il futuro dell'architetto, tra internazionalizzazione del mercato e riqualificazione energetica. Una preziosa occasione d'incontro tra aziende, istituzioni e professionisti del settore con il patrocinio dell'Ordine degli Architetti Genovese e del Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Genova. Moderatore della giornata, l'architetto Massimiliano Fadini. Il futuro degli architetti sicuramente può essere rivolto a un processo di internazionalizzazione perché comunque la progettualità e il Made in Italy sono ancora un valore molto importante e l'organizzazione del progetto che ha presentato oggi l'Ordine di Genova sicuramente è un esempio molto importante di come si può approcciare il mercato estero. Dall'altra parte sicuramente quello che affronteremo nella seconda parte della giornata ovvero la riqualificazione degli edifici esistenti è sicuramente il futuro degli edilizia oltre che per gli architetti. Quindi diciamo che la giornata di oggi ha sicuramente affrontato due risvolti molto importanti per il futuro del luogo dell'architetto. Grazie a tutti.